Benvenuti a pop up il nuovo programma dedicato ai giovani talenti italiani Chi lo sa da dove nasce il mio talento e dove lui mi porterà Questo meraviglioso studio ospiterà ogni puntata due squadre di ragazze Gli saranno bravi a rispondere alle domande, più tempo avranno a loro disposizione Per potersi esibire poi nelle tre discipline canto, musica e danza Io sono Beo, sono pronta a leggere tutti i vostri clip Perché anche se siete a casa, noi vi vogliamo qui con noi Io sono pronta a leggere, voi siete pronti a cinguettare? Benvenuti, Golden Guys! Ragazzi siete pronti? Siete curiosi di scoprire la squadra avversaria? Allora passiamo a chi dovrà giudicare le esibizioni dei nostri ragazzi E sono tre famigerati giudici che vi presentiamo subito Dietro Foressi Valeria Rossi Alessandro Lacoma A questo punto partiamo subito con il primo gioco che prende il nome della nostra sigla Vai con chi lo sa Per ogni risposta corretta guadagnerete 30 secondi di tempo Ci dovete dire Che numero di edizioni di amici ha vinto? Con quale brano ha vinto il festival di Sanremo? In quale film ha recitato? Come si chiama il suo ultimo album? E secondo i rotocalchi, qual è l'ultimo club di E? 2009, non è l'inferno Benvenuti al nord, chitarra e superstar L'autore mi dice che hanno indovinato due domande Quindi per un totale di 60 secondi Umi, invece qui con The Guys hanno totalizzato tre risposte esatte Per cui guadagneranno un minuto e mezzo Non sapete quanti tweet stanno arrivando Abbiamo Tiziana che ci scrive Ma quanto sono belli i conduttori Però non ho ancora capito chi è Umberto e chi è Daniele Tiziana, ti svelo un segreto? Abbinali ai colori Rosso, Umberto Giallo, Daniele Così almeno per questa puntata abbiamo risolto Bea, sei tu? Guardate un po' dove sono Ma quello è il mio camerino Bravo, risposta esatta Sono proprio nel tuo camerino E sono qui perché adesso facciamo vedere A tutti gli amici a casa che ci seguono Tutti i vostri piccoli segreti No, 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 Roberto non lo puoi fare Umberto e si sta scatenando su Twitter E io ho scelto proprio due messaggi per le due squadre Allora, abbiamo Carolina che ci dice Io tifo per i cold e i best Il mio rispetto è credere di essere perfetto E chiedo perdono se poi sbaglio Ti giuro che non ci ricasco Non sono matto Il mio rispetto Dimenticare tutto è concesso E cade una frizzola a terra e piango E chiedo perdono e mi incinocchio Continuando a ci guettare Hashtag Pop Up Senti a громa Senti a громa Grazie.